E' polemica sullo smaltimento in Emilia-Romagna dei rifiuti di Roma. La regione nei giorni scorsi aveva dato la disponibilità a trattare 15.000 tonnellate di rifiuti per un periodo massimo di 43 giorni effettivi negli stabilimenti di Parma, Modena e Granarolo in provincia di Bologna. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Paola Gazzolo, ma basta polemiche dal Movimento 5 Stelle. Se non c'è più questa esigenza meglio ancora, si dica però una parola chiara e definitiva perché non si gioca con le istituzioni. Gazzolo fa riferimento ad alcune affermazioni comparse sul blog di Beppe Grillo, secondo le quali non si tratterebbe per quel che riguarda la disponibilità della regione Emilia-Romagna ad aiutare il comune di Roma a smaltire i rifiuti, ma di un salvataggio spot natalizio di un partito allo sbando in cerca di un posto nella storia. Noi siamo un'istituzione seria, aggiunge Gazzolo, e non ci prestiamo a batti e ribatti da campagna elettorale. O il problema c'è e noi siamo disponibili a venire loro incontro per evitare danni enormi anche all'immagine della capitale. Oppure il problema non c'è e quindi facciamo finta di non aver ricevuto una richiesta formale in tal senso, ma si decidessero una volta per tutte, ha concluso Paola Gazzolo.